Alessia Castellini, buongiorno. Buongiorno, salve e grazie per l'invito, è un piacere parlare con te. È un invito che è un piacere poter condividere perché le storie o si condividono oppure rimangono inascoltate, rimangono in un cassetto ed è quello che ha fatto Alessia Castellini con il libro che tra poco racconteremo, ma racconteremo non troppo perché come sempre qui nel posto delle parole amiamo stare sulla soglia delle storie e anche della storia di Alessia Castellini, il romanzo pubblicato da Redizioni PM. Il romanzo si intitola Il sentiero delle formichelle. Alessia Castellini è nata a Palermo, ha un dottorato di ricerca in fisica teorica, è coautrice di articoli scientifici pubblicati su diverse riviste internazionali, viaggia, scatta fotografie con la sua Reflex, sempre alla ricerca di storie da raccontare. Questo è quello che c'è scritto nel risolto di copertina, ma adesso andiamo un pochino a curiosare e curiosiamo nelle fotografie. Qual è l'ultima fotografia che hai scattato? L'ultima fotografia che ho scattato con la Reflex l'ho scattata durante un tour in Sicilia, nella mia Sicilia, che nonostante non abbia ispirato la storia, mi ha sempre trasmesso un profondo amore per la terra e per la natura, cosa che fondamentalmente poi ho inserito nel mio romanzo. La scelta di scattare con la Reflex è una scelta che è voluta oppure come mai hai scelto di lavorare con l'immagine partendo da una Reflex e lavorando con una Reflex credo che sia una cosa diversa dal telefono, adesso non per essere passatista. Sì, assolutamente sì, perché io ho sempre avuto a che fare con le macchine fotografiche, fin da bambina mia madre scattava fotografie con una jascica, una vecchia macchina fotografica. E chi se la ricordava più la jascica? Ma che meraviglia, sì. La Reflex è lo strumento fotografico che più si avvicina alle vecchie macchine fotografiche perché consente di scattare le fotografie guardando nel famoso vecchio mirino. È diverso da una mirrorless che ti consente di scattare le fotografie soltanto guardando lo schermo digitale. E quindi ho scelto la Reflex perché amo viaggiare nel tempo rimanendo nel presente. E qual è stata la prima macchina fotografica? Con il primo scatto e l'emozione magari di una bambina che ha tra le mani questo oggetto così amato e allora qual è stato? La prima è stata una Canon per me. Una prima Canon a rullino, sì. A rullino semplicissima. Io adoravo poi andare con la mamma a sviluppare le mie fotografie. Ero gelosissima dei miei rullini e dei negativi. E poi crescendo mi sono affacciata al mondo delle Reflex e ho scelto una Canon giusto per rimanere fedele al mio passato. E anche perché poi almeno sono passati i tempi in cui c'erano le due religioni normalmente. Da una parte coloro che scattavano in Canon e dall'altra coloro che scattavano in Nikon. Ecco e poi ovviamente il mercato ha modificato abbastanza questa condizione. Ma adesso dalla fotografia... Ma se tu volessi raccontare il tuo romanzo attraverso una fotografia, quali potrebbero essere? Che soggetto potrebbe avere? Beh, allora il soggetto è assolutamente una formichella. Io in realtà sono partita da una fotografia di donna per caratterizzare uno dei personaggi principali della mia storia, Rachele, che è appunto una formichella, una delle donne della costiera amalfitana che ha trascorso la vita trasportando pesantissime ceste di limoni, ma non solo, lungo i sentieri impervi della costiera. Quindi partirei dalla fotografia di questa donna e poi arriverei alla fotografia che mi è stata inviata dopo l'uscita del romanzo in cui la signora Rachele, la signora Nannina in realtà, perché la donna si chiama Nannina... Ancora in vita, tra l'altro. Sì, è una delle ultime donne, delle ultime formiche le invita, tiene in mano una copia del romanzo ed è stato davvero super emozionante vedere il risultato delle mie ricerche e del mio piacere di raccontare tra le sue mani, le mani che hanno ispirato, in qualche modo forgiato tutto il racconto. In pratica si è chiuso il cerchio, no? Con questa immagine. Ma adesso dalla fotografia passiamo alla pittura, perché l'immagine di copertina, devo dire che adesso non perché Alessia Castellini sia qui insieme con noi, ma sarebbe bello che in Italia ci fosse e noi abbiamo lavorato un po' su questa cosa, poi l'abbiamo abbandonato, ci sono tantissimi premi dedicati ai libri, ma un premio dedicato alle copertine sarebbe veramente interessante e questa copertina ha molto da dirci. Che cosa racconta questa immagine? Allora, questa copertina è un dipinto che è esposto alla Galleria di Manchester ed è un dipinto di George Clausen, un pittore inglese che è vissuto tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento. In copertina c'è il volto di una donna. Io ho amato questa copertina non soltanto per l'espressione della donna, della ragazza che è un'espressione molto fiera, molto dignitosa, anche un po' arrabbiata a tratti, che rispeccia perfettamente i personaggi delle mie formichelle, ma l'ho amata anche perché il volto di questa donna è immerso su uno sfondo con grosse pennellate verdi che ricordano tantissimo il colore della costiera amalfitana di cui io mi sono innamorata. C'è questa trama a pennellate abbastanza grosse che mi dà una sensazione di calore meravigliosa. Eh sì, perché poi il contrasto di questo fondo verde e con questo viso bellissimo tra l'altro e poi entrare nello sguardo di questa donna, di questa giovane ragazza anzi e allora ricorda un po' le difficoltà, no? Le speranze, anche i sogni, perché no? Di queste donne che andavano su e giù ogni giorno, da mattina a sera a trasportare, a trasportare limoni. A mia madre che ha visto il mio sentiero prima di me. Qual è stato questo sentiero che tua madre ha visto prima di te? Eh, il sentiero della scrittura, perché fin da quando ero bambina lei mi regalava dei taccuini su cui scrivere le mie storie, le mie piccole fiabbe da bimba e poi alla fine questo regalo, questo dono mi ha sempre accompagnata nella vita nonostante, come hai detto tu, io abbia poi intrapreso degli studi scientifici perché appunto ho studiato fisica all'università. però secondo me lei il sentiero del cuore, quindi il sentiero che mi ha portato a scrivere, che spero mi porterà a scrivere ancora, lo ha sicuramente visto prima di me regalandomi quei taccuini. E questo è stato propedeutico, un po' come per la fotografia, vero? Sì, sì, assolutamente sì. È stato tutto, non so, scrivendo questa storia ho avuto la sensazione di mettere insieme tanti pezzi della mia vita apparentemente scollegati. Dalla frase in esergo, la dedica a mia madre che ha visto il mio sentiero prima di me, ci portiamo dietro la parola sentiero perché è una delle prime parole di questo romanzo. Vediamo questa giovane donna, Maria, che non riesce a fare il suo lavoro, a trasportare i pali di castagno e quindi è obbligata ad arrendersi, almeno per quel poco, proprio perché era stato il sentiero in salita che si doveva percorrere per fare il rifornimento. Ora, questo sentiero in salita, Alessia Castellini, non è semplicemente un percorso, ma racconta questo sentiero in salita, questa brevissima cosa per me, e l'ho sottolineata tra l'altro insieme con molte altre frasi, rappresenta proprio il senso di vita di questa donna, di queste donne che percorrevano questo sentiero in salita ma era anche il sentiero in salita della vita soprattutto, non è tanto ed era già molto trasportare i limoni, in questo caso i pali, i pali di castagno. Ma i sentieri della vita erano molto tormentati. Sì, sì. Loro, oltre appunto, come dicevo prima, a trasportare i limoni e a trasportare i pali di castagno, in realtà trasportavano un po' di tutto. Trasportavano ad esempio le balle di carta e di stracci per le cartiere, trasportavano perfino il ghiaccio o i carboni, però di fatto, come hai detto tu, non era un sentiero impervio, semplicemente lavorativo, quello che loro attraversavano. La durezza del sentiero si ripercuteva anche in casa perché purtroppo parecchie di queste donne vivevano questa condizione di fatica sul lavoro quasi come se fosse un sollievo perché consentiva loro di uscire di casa perché magari avevano dei mariti violenti o dei padri che cercavano di controllare le loro vite e quindi preferivano quel tipo di fatica, la fatica fisica, alle violenze che vivevano in casa e da cui non riuscivano a liberarsi. Quindi il sentiero in questo romanzo ha un valore letterale, un valore metaforico e quasi sempre per le formichelle era un sentiero difficilissimo da percorrere. E poi questo romanzo a proposito di sentieri di luoghi ci può far cambiare un po' lo sguardo sulla costiera amalfitana, ricca di luoghi comuni certamente, una zona turisticamente straordinaria e come no, ma nulla vieta di andare a vedere oltre, potremmo dire oltre le foglie di limone, andare a vedere che cosa si nasconde e allora la capacità di raccontare la storia di queste donne e di questa donna in particolare e scoprire il loro mondo, condividerlo, farla diventare un romanzo e allora qui ci inerpichiamo anche fino a spezzarsi le ginocchia come direbbero le nostre protagoniste e ci inerpichiamo insieme con loro per i sentieri, siamo a tramonti ma perché c'era la necessità di trasportare i limoni, Alessia Capellini, Castellini? I limoni in costiera amalfitana hanno sempre avuto un ruolo importantissimo perché loro hanno un particolare tipo di limone, lo sfusato, che soprattutto nell'Ottocento veniva esportato in America ma in generale in tutta Europa e quindi era importantissimo farlo arrivare dai monti lattari fino alla costa e quindi alle navi che dovevano trasportarlo. Poi nel Novecento il commercio di limone è diventato una cosa più fatta in casa, si è smesso di esportarlo soprattutto e si è cercato di valorizzarlo anche all'interno del loro territorio, in costiera e quindi tutta quella filiera del limone alla fine convogliava nel suo utilizzo anche in ambito turistico perché naturalmente all'inizio del Novecento la costiera si è trasformata grazie all'apertura di alberghi e di centri appunto di ritrovo per turisti. Il limone è diventato uno degli ingredienti più importanti anche della cucina. C'era appunto necessità di trasportarlo lungo i sentieri impervi perché in quel periodo, soprattutto insomma fino agli anni Settanta del Novecento, le strade non erano asfaltate e per far giungere il limone dove era necessario si dovevano attraversare delle zone veramente malmesse e soltanto le donne cercavano di venire incontro diciamo a questa necessità di trasportarlo. Ma qui c'è anche una forte attenzione alla dignità delle persone, alla dignità del lavoro e tutto questo viene calpestato perché le donne sono un oggetto semplicemente di guadagno e anche per esempio quando ricordo a un certo punto c'è la domanda ma non c'è un'ostetrica? E allora la risposta scontata per certi aspetti ma come? Un'ostetrica in mezzo a un bosco ma è normale che non c'è? E allora si va avanti in questo ragionamento dicendo che ma non si riesce ad accettare che a quello stadio di gravidanza si continuino ancora a trasportare i quintali di limoni eppure era così. Era proprio così ed è una cosa che mi ha colpito tantissimo parlando con Annina. Io ho fatto esattamente le tue stesse domande io mi sono chiesta come si potessero accettare quelle condizioni e lei mi ha risposto che semplicemente era il loro destino la vita per loro era quella e quindi non veniva loro neanche in mente di poter cambiare la situazione nonostante negli anni in cui abbia ambientato la storia e nonostante non siano anche gli anni in cui ha vissuto Annina con la sua gemella Rachele ci fossero già delle leggi che avrebbero in realtà tutelato queste donne perché loro fondamentalmente si iscrivevano agli elenchi nominativi per braccianti agricoli ma come abbiamo detto loro facevano di tutto non lavoravano soltanto nel mondo dell'agricoltura e già nel 34 ad esempio era stata proposta una legge era stata varata una legge che avrebbe impedito alle donne occupate in lavori agricoli particolarmente gravosi di lavorare nell'ultimo mese di gravidanza e in realtà proprio nel 34 nascono Rachele e Nannina le vere Rachele e Nannina è la storia della loro nascita e della loro mamma Maria che attraversa la montagna e che fino a una settimana prima aveva lavorato trasportando i pali è vera quindi fino al nono mese di gravidanza loro lavoravano anche in un momento in cui non avrebbero dovuto semplicemente perché non riuscivano ad accedere alla cultura perché non sapevano leggere non sapevano scrivere e non erano consapevoli dei loro diritti eh sì non erano consapevoli consapevoli dei loro diritti e non si guadagnava non si guadagnava abbastanza no a un certo punto del libro si legge se ricordo bene a volte non si poteva nemmeno comprare un pacco di pasta con quello che si guadagnava ma nonostante questo c'era un concetto molto particolare ed è tenerissima questa cosa ma è molto forte rappresenta quanto quanto queste donne si aiutavano qui dicevano ci aiutavamo tutti non ci stava il mio il tuo ma ci stava o nostro no e questo credo è una forza e un coraggio da mettere insieme sì sì credo che sia io credo che sia proprio questo quello che ha consentito a queste donne di sopportare le condizioni di vita e di lavoro in cui hanno vissuto la il fortissimo senso di comunità la consapevolezza che nelle difficoltà non sarebbero state sole e questo vale anche diciamo per la fetta di popolazione maschile naturalmente nel romanzo io tratto sia la condizione drammatica delle donne che si si sposavano con uomini che appunto non conoscevano allora non conoscevano bene e che poi si rivelavano violenti ma parlo anche naturalmente di quella fetta di popolazione maschile che supportava le donne e cercava di affiancarle e a volte cercava anche di iniziare quel processo di cambiamento che avrebbe portato poi alla consapevolezza ecco dei giorni nostri e questo romanzo o questa storia mette insieme deve mettere insieme il passato il presente con il futuro e allora e allora arrivano due due sorelle Ninfa e Aleli e qui il pensiero sembra che questa storia sia una storia che non corrisponde allora allora deve esserci per così dire quasi un controllo una rivelazione ma la rivelazione invece sarà ben diversa da quello che Ninfa e Aleli si aspettano sì sì assolutamente sì perché loro partono per la costiera amalfitana in un momento della loro vita in cui entrambe cercano una strada per superare un momento difficile e si aggrappano a una vecchia fiabba della nonna che non ha un finale perché la nonna è morta prima di raccontarlo e la fiabba parla proprio di di Rachele e di Nannina due personaggi che secondo Ninfa sono frutto della fantasia della nonna e che invece poi si rivelano si rivelano vere e nella ricerca del finale di questa fiabba scopriranno non soltanto una fetta di storia del paese in cui vivono in cui viviamo tutti ma anche una fetta di storia del tutto inaspettata che è connessa a quel famoso sentiero che entrambe le sorelline di oggi cercano per risollevarsi vorrei condividere l'inizio di una lettera senza troppo rivelare Alessia Castellini il capitolo intitolato segreto quindi è importante e così comincia c'è stato un tempo in cui per me scrivere era un mezzo per andare via oggi scopro che è diventato l'unico sicuro che ho per tornare certe storie sono come labirinti è bene raccontarle soltanto se si sa come uscirne ma è proprio vero? Sì grazie per aver citato questo estratto a cui sono particolarmente legata e che in qualche modo è connesso anche alla mia esperienza di scrittura di questo romanzo io scrivendo questo romanzo ho trattato degli argomenti e mi sono presa del tempo per farlo soltanto quando sono stata sicura di riuscire ad affrontare il tutto e credo che nella vita in generale le storie in fondo siano dei luoghi quando le si racconta quando le si ascolta lo si deve fare sempre con la consapevolezza che alla fine ci sia una via d'uscita nel bene e nel male e quindi questo estratto è un un estratto a cui sono particolarmente legata che ha un valore importantissimo nella storia perché come hai detto tu è all'interno di un capitolo che si chiama Segreto ed è il capitolo che soglie i nodi essenzialmente eh sì ed è un capitolo che i nostri ascoltatori scopriranno leggendo il romanzo d'esordio di Alessia Castellini Il sentiero delle formichelle pubblicato da PM ma prima di salutarci Alessia qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni in questi giorni il libro che mi fa compagnia è l'ultimo libro di Lorenza Gentile credo sia uscito il quattro io sono corsa subito a comprarlo ed è tutto il bello che ci aspetta pubblicato da Feltrinelli vero? esatto sì sì avevo proprio bisogno di una boccata d'aria fresca e Lorenza Gentile in genere ne regala in abbondanza quindi quantità Lorenza Gentile che tra l'altro sarà prossimamente nostra ospite proprio per questo nuovo romanzo pubblicato lo dicevo da Feltrinelli tutto il bello che ci aspetta intanto Alessia Castellini grazie di cuore per il tempo che ci hai dedicato e buona giornata grazie a te è stato un piacere ciao